Cartier Cossade Cartier, eleganza senza tempo e prestigio nell'orologeria di lusso. Tra i marchi di orologi di lusso più prestigiosi al mondo, Cartier si distingue per il suo design iconico e la tradizione di eccellenza nell'orologeria. In questa recensione dettagliata, esploreremo l'orologio da polso Cartier Cossade Cartier, mettendo in luce le sue caratteristiche uniche, il prestigio del marchio e il motivo per cui è una scelta di stile senza paragoni. Il Cartier Cossade Cartier si afferma come uno dei modelli più distintivi nella vasta collezione Cartier. Il suo nome deriva dalla forma a cuscino della cassa, un elemento unico che lo rende immediatamente riconoscibile. Questo orologio incarna l'essenza dell'eleganza e della raffinatezza, diventando un simbolo di stile senza tempo. Prima di immergerci nelle caratteristiche specifiche, consideriamo alcune delle principali qualità che rendono il Cartier Cossade Cartier un'opzione straordinaria. 1. Design iconico. La forma a cuscino della cassa è il marchio distintivo del Cossade Cartier, rendendolo un oggetto di desiderio per gli amanti dell'orologeria di lusso. 2. Materiali di alta qualità. Cartier utilizza materiali pregiati come l'oro, l'acciaio inossidabile e il cuoio di alta qualità, garantendo la durata e l'estetica dell'orologio. 3. Movimento svizzero di precisione. Ogni orologio Cartier Cossade Cartier è dotato di un movimento svizzero di alta qualità, assicurando una precisione impeccabile nel tenere il tempo. 4. Versatilità di stile. Nonostante la sua forma unica, il Cossade Cartier si adatta perfettamente a una vasta gamma di occasioni, dall'abbigliamento formale a quello casual. 5. Dettagli di prestigio. Numeri romani stilizzati, lancette blu acciaio e una corona ornata da un cabochon di zaffiro sono dettagli distintivi che riflettono l'attenzione ai dettagli di Cartier. Il Cartier Cossade Cartier è un vero capolavoro di design. La sua forma a cuscino è audace e originale, distinguendolo nettamente dagli altri orologi sul mercato. In conclusione, l'orologio da polso Cartier Cossade Cartier non è semplicemente un accessorio, ma un'icona di eleganza, prestigio e originalità. Con il suo design unico, l'uso di materiali di alta qualità e il movimento svizzero di precisione, rappresenta un investimento di stile che resiste al passare del tempo. Scegliere il Cartier Cossade Cartier significa abbracciare una tradizione di raffinatezza che va oltre le tendenze del momento, confermando il proprio stile con un tocco di eternità.